Papi, non puoi filmare? No, dai. Papi, se canta voi, canta tu. No. Canta Clara. Canta la pedita. Amene. Aclamate il Signore con ogni strumento, aclamate il Signore. Papi, non puoi filmare il Signore con ogni strumento, aclamate il Signore. Aclamate il Signore con ogni strumento, aclamate il Signore con ogni strumento, aclamate il Signore. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Beh, bravo, bravo Bravo, finito